Buongiorno a tutti, ci troviamo sempre alla Marina di Sestri Ponente e non poteva mancare la nostra visita alla Lega Navale di Sestri, abbiamo qui con noi il Presidente, il suo nome? Io sono Antonio Bitti, buongiorno, siamo una struttura ormai ben avviata, siamo nati nel 1926, naturalmente non qui, invece qua siamo dal 2003, questa è una marina completamente nuova, siamo circa 1400 soci, facciamo diverse attività, facciamo vela, vela d'altura, vela per i bambini, Ottimist, abbiamo i dinghi per le persone che fanno dinghi, poi abbiamo il gruppo pesca con tutta l'attività che ne concerne, abbiamo la marina con diverse gru, abbiamo una gru da 25 tonnellate in modo da poter tirare su tutte le barche, ne abbiamo circa 500 barche in mare, abbiamo una bella marina insomma nuova e abbiamo la concessione fino al 2000 e 2092, siamo già fortunati, uno degli unici circoli che non ha problemi, grazie a Dio che potrebbe, diciamo anche perché magari riesce a fare tutta questa attività, ha meno problemi con la Wolkenstein e altre cose varie. Presidente, so che tra poco avrete anche il rinnovo del Consiglio. Sì, sì, domani abbiamo le votazioni, proprio domani inizieremo dalle otto e mezza, così finiremo alle diciotto, ripeto, siamo un bel numero di circa 1400 soci, circa, e beh speriamo bene per tutti, sia per tutti quelli che stanno partecipando, per tutti anche quelli che si sono messi in lista per diventare, diciamo, Presidente, Consiglieri, Presidente, auguro a tutti quanti di vincere, ecco, così almeno siamo tutti. Vinca il migliore. Vinca il migliore, va bene tutti. Quelli che hanno più voti. Senta Presidente, voglio confessare una cosa, io oggi qua sono particolarmente emozionato, perché proprio in questo punto, nel 1973, l'amiraglio Durand de La Penne, insieme naturalmente al secolo XIX, altre associazioni genovesi, aveva regalato allora 30 Optimist alla Lega Navale perché insegnassero a navigare ai bambini. Dieci erano verdi, dieci erano bianchi, dieci erano rossi, una cosa stupenda, di cui sono testimone, c'era anche il Cardinale Siri, c'erano le autorità, però la sede non era qui, qui era l'unico spiazzo possibile per mettere gli Optimist. Voi eravate ancora lì e anzi, tanto per chiudere l'argomento, lei diceva non eravamo qui prima, eravate a Multedo, vicino ai bagni in passeggiata, vicino ai pompieri e io allora vi conoscevo già, come ho già dimostrato parlando di vecchie conoscenze, conoscevo già loro, quando andavo ai bagni vedevo la Lega Navale, vedevo i giovani di allora, che adesso sono tutti più o meno della mia età, quindi mi è rimasto un po' nel cuore, per quello dicevo, sono un po' emozionato a ritrovarmi qui in mezzo a voi, una sede che è stupenda, c'ha il suo bar, potete far da mangiare, avete ogni cosa, vi siete veramente, come si può dire, allargati rispetto a come eravate lì. Comunque è una bella cosa che è successa per questo trasferimento, lei era già allora? No, io sono entrato nella Lega Navale nel 1975, però eravate sempre là. Io sono entrato, io come socio, dopo di che diciamo poi piano piano questa struttura è cambiata completamente, come eravamo messi, come lei si ricorderà sicuramente, oggi stiamo vedendo qualcosa che è come una marina questa, non ha cose più niente di un circoletto, è una piccola azienda questa, abbiamo personali dipendenti, abbiamo insomma, ripeto, è una delle più grandi d'Italia, una struttura che non ha più niente da ricordarvi di come eravamo una volta. E questo merito non solo ai consigli di amministrazione, non solo al numero degli iscritti, ma soprattutto per la bontà anche dell'associazione. Certamente, certamente, tutti hanno contribuito per fare quello che oggi si vede, tutti siamo orgogliosi di quello che oggi si può vedere. E sento un po', solitamente qui viene fatta una festa, no? Aperta al pubblico, con gita in barca, sulla goletta. Sì, veniva fatta fino a poco tempo fa la festa del mare, che veniva fatta a giugno, dove tutta la cittadinanza veniva invitata e si faceva pesce, quelle cose lì, servivamo fino a circa 2.500 pasti e tutta, diciamo, la nostra sezione faceva tutto quanto lei, ecco. Sì, ma ha detto fino a tempo fa perché non la fate più? No, sono due anni che non la facciamo per altri motivi, perché abbiamo dei problemi della ASLE, eccetera, quindi ci siamo dovuti un po' fermare. Questione igienico-sanitaria? Tutta era più facile, no, 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 è che era più facile prima far tutto, andava tutto bene, adesso basta niente che tutto si interrompe, che tutto si ferma, basta una telefonata, basta tante cose, allora ci siamo un po', sono due anni che non la facciamo. È un gran peccato perché le norme che vengono emesse continuamente modificano lo status quo, quello che succede è che uno è abituato a certe cose e poi si deve adeguare, come d'altra parte anche per andare per mare, non è più come una volta, uno prendeva la barca e andava. È cambiata tutto quanto, sia la filosofia per andare per il mare, sia anche qua, norme di sicurezza, ce n'è una al giorno, c'è una legge ogni mattino, quindi non è facile e si cade subito anche nel penale, ha ragione per cui immediatamente tutto si ferma, siamo in Italia e quindi è così. È lo specchio dei tempi ma anche direi lo specchio dell'Italia, che si sta incartando in qualche maniera. Direi proprio che è così. Benissimo Presidente, la ringraziamo per questa intervista, ora diamo un po' un'occhiattina a tutto l'insieme, avete queste splendide gru per l'allaggio, che sono le più grosse che ci sono qua, tra l'altro credo… Tutto il cantiere, specialmente quello da 25 tonnellate, che è un carro che viaggia nel piazzale e tira su 25 barche ogni 15 giorni, ne tira su 25 e ne mette in mare 25 e fa 1200 operazioni all'anno, oltre a tante altre. Abbiamo barche da 13 metri fino a 5 metri e quindi direi che è una marina molto grande, uno specchio anche enorme. Sì, noi ne siamo consapevoli, siamo contenti di essere venuti a trovarvi e noi salutiamo i nostri amici e ricordiamo ancora di seguire le nostre trasmissioni su Sestri ed intorni e se ci sono dei consigli, qualche suggerimento, noi siamo sempre aperti, come d'altra parte abbiamo dimostrato che siamo aperti anche la Lega Navale nei nostri confronti e nei cittadini. Grazie Presidente, grazie a voi, grazie di tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.